Si sono presentati in 4.000 questa mattina alla Vitri Frigo Arena di Pesaro per il concorso con esame scritto e pratico indetto dalla Regione Marche per assegnare 47 posti da infermiere a tempo indeterminato nei quadri del Servizio Sanitario Territoriale. Una folla di giovani, tanti marchigiani, molti anche da fuori regione e tanti che individuano nelle Marche la destinazione più indicata alle loro aspirazioni professionali. Dei 47 posti la maggior parte sono richiesti dall'azienda sanitaria di Macerata che attende 18 nuovi infermieri. 12 invece gli infermieri richiesti in questo concorso dall'azienda territoriale sanitaria pesarese. Io sono abruzzese, momentaneamente lavoro in Veneto e spero di riavvicinarmi quindi ci proviamo. Speriamo bene, c'è tutta fortuna in base alle domande perché si può essere preparato quanto vuoi però ecco, speriamo bene. L'obiettivo è vincere, è entrare all'ospedale per un futuro. Un'ambizione che ho sempre avuto e ora speriamo di riuscire nell'obiettivo. Come sempre ci proviamo al massimo, tanto alla fine gli infermieri servono, noi tutti lavoriamo, ci proviamo. Ovviamente le Marche è il sogno di tutti, da marchigiani, questo è quello che ogni marchigiano ambisce, lavorare nel proprio ospedale. Grazie a tutti.